signori benvenuti benvenuti al mio programma spero che non si blocchi il video ragazzi perché sappiamo che potrebbe scattare un annuncio e bloccarsi il video improvvisamente potrebbe succedere se succede amen spero di no potrebbe succedere comunque benvenuti nel mio programma di tutto e di più se dovesse scattare l'annuncio raga dovrò rifare il programma spero di no in una versione abbastanza sun diciamo soleil non so come dire quindi una versione abbastanza sky abbastanza sky benvenuti di tutto e di più c'è un sole oggi che spacca le pietre non solo le pietre anche i pietroni ciao raga spero solo che non si blocchi il video benvenuti al mio programma di tutto e di più ciao oggi è il 22 marzo è primavera nel vero senso della parola perché fino a due giorni fa ha nevicato quindi fino a due giorni fa nevicava oggi il 22 marzo come vi dicevo ho un ticchio e spero che non si blocchi il video perché potrebbe ragazzi vi dico subito ve lo dico potrebbe scattare l'annuncio e il video si blocca vi ripeto se dovesse bloccarsi il video metterò metà video questo e metà il prossimo il programma come sempre mio sono io l'autore l'autore sono io di tutto e di più un bel programma spero se si blocca ragazzi dividerò il programma in due parti se si blocca ripeto 22 marzo in questo caso non è mercoledì mattina come faccio sempre ma è giovedì tardo pomeriggio ho cambiato questa volta ok spero che non si blocchi il video se si blocca farò metà metà e metà me lo auguro cioè mi auguro di no ah oggi è veramente una bella giornata non si parla più di freddo non si beh non è tanto caldo raga però non c'è più il burian 3 dopo che è venuto il burian 2 il burian 3 non c'è più e speriamo davvero che che rega questo tempo me lo auguro chi è adesso arrivo un secondo ragazzi hanno bussato alla porta potrebbe bloccarsi il video ve lo ripeto potrebbe bloccarsi il video previsamente vediamo chi è se non si blocca il video vediamo 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 chi è sì no raga è successa già una volta questa cosa ecco lo sapevo raga e questo cos'è cos'è un uovo di uovo di uovetto di pa cos'è questa cosa no raga cos'è era qua per terra che bussano alla porta e dopo non entrano neanche che gente e questo cos'è no ragazzi che non sia come l'altra volta per ivan ma che sarà sarà ma che sarà sarà Ma che sarà, sarà. Questo qui. Stacchiamo. Ma che sarà, sarà. Che sarà, che sarà. Allora, scusatemi, lo faccio meglio. Non sempre linkate. No, comunque, ok. C'è una bomba? No, spero di no. Ah, scherzo. È Pasqua, non manca tanto, raga. Apro, apro, apro. Ho paura un po' sempre. Con lo stesso timore, con la stessa paura. Che ci sia qualcosa di strano. Vado? Questa è l'ultima volta, ragazzi, che forse mi vedrete vivo. Ma mia, che paura. Cioè, ma, ma scusa, ma io, no, raga. Cioè, dovrebbe esserci cioccolata qua dentro. Caramelle al miele. Sono caramelle al miele. Caramelle al miele. Grazie delle caramelle. Me le prendo. Poi le darò ai gatti, perché i gatti di solito mangiano caramelle. No, scherzo. No, comunque, le caramelle me le metto anche in tasca, poi me le porto di là, me le metto via. Aspetta, aspettate. La caramelle ce l'ho fatta, grazie. Questa cosa di metterla in tasca, ragazzi, non l'ho programmata. Mi è venuta in mente adesso. E, ragazzi, questo uovo lo rispedisco al mitente, per così dire. Tieni, tieni, mitente. E non farmi più scherzi del genere, chiaro? L'ho rispedito al mitente, raga. Ma che scherzi sono questi? Il video, ripeto di nuovo, sarò ripetitivo, potrebbe bloccarsi il video, quindi se si blocca, riprendiamo un altro video. A tra poco, se non si blocca. A tra poco. Sì, perfetto. Va bene, grazie, grazie mille. No, scusi. No, no, non dicevo a te, mi sono distratto. Ciao. Sì, ciao, ciao, ciao. No, ragazzi. No, delle etichette? Oh, che menata, le etichette. Ma prima non c'erano. Come mai ci sono desto? E poi chi le ha inventate? Chi le ha scritte? Chi le ha spedite? Chi? Io? Non credo. Non credo. Se si blocca il video, amen. Procediamo. Procediamo. Questo mio video dura, dovrebbe durare circa, più o meno, un quarto d'ora, se non si blocca da solo il video. E vediamo. Mi fanno lavorare. Guarda in alto, guarda in alto. Ma perché devo fare queste cose? Guarda in alto, che c'è? Il soffitto. Poi, dici venti volte io mi autodenuncio. Ma per cosa? Non ho commesso niente. Venti volte? Ok, ma se non dico che succede? Mi cade un aereo in testa? Cado per terra direttamente? No. Dici venti volte io mi autodenuncio. Ma per cosa? Perché? Perché? Per cosa? Per come? Vabbè. Io mi autodenuncio. Io, anche io. Io mi autodenuncio. Io mi autodenuncio. Io mi autodenuncio. Io mi autodenuncio. Venti volte l'ho detto, però. Guarda sotto il letto, ma non c'è un cavolo, c'è solo polvere. Non c'è niente sotto il letto, non c'è nulla. Cioè, raga. Fai fin? Ma come? Fai finta di minacciare qualcuno? No, raga. Non lo posso fare. Cosa devo? Ma chi devo minacciare? Non c'è nessuno qui. Tu, tu, tu. No, raga. Non so chi minacciare, ma di cosa? Minaccio di cosa? Quanti sono ancora? Eh, sei. Suona il piano? Il piano? Eh, ce l'ho sull'app cellulare, ma non posso usarlo. O fai finta se non c'è? Faccio finta perché non c'è. Suona il piano? Ma che cavolate sono? Sali sulla sedia o sul tavolo? Qua in camera? Secondo te ci sono tavoli? Non credo proprio. Comunque. Sali sulla sedia? Aspetta, perché? No, aspettate. No, perché ho letto una cosa. Allora, saldi sulla sedia, sul tavolo. Infine, buttati dalla sedia o dal tavolo? Cioè, io devo buttarmi dalla sedia. Quindi lui prese tutti e tre. E quello? Adesso vediamo. Allora, saldo su questa sedia e mi butto da questa sedia. Ma devo buttarmi proprio? Buttarmi? Vabbè, mi butto e farò questa falsa. Che fatica. Alzati e dici sono ancora vivo. Sono ancora vivo. Sono ancora vivo. Sono ancora vivo. Ma le cavolate sono. Chi le inventate queste cose? C'è ancora un altro. Se lo sei, se lo sei, se sono vivo, mi sta a dire sì. Ho detto a posto qua. Se lo sei, fai, fai. Yeah! Yeah! Tutta questa cosa, tutta questa parpaglia, tutta questa farsa, per cosa? Per fare yeah. Eh? Ma secondo te è normale? secondo te? Cioè, non mi pare che sia una cosa normale. In teoria non è normale. Non è normale però. Eh? Eh? Ragazzi, finora non si è bloccato. Manca poco. Se si blocca adesso, amen, farò un altro pezzo di video. Finirò. Perché siamo arrivati anche di questo bel programma. Spero che vi sia piaciuto. Come sempre, potete inviarmi una mail a io non mi privo chiocela hotmail.com o c'è anche un'altra mail, ok? Io non mi privo chiocela yahoo.com dovrebbe essere questo d'altro indirizzo. Prima di finire, del filmo curioso. Tu mi guardi, tu sei curioso. Io sì, sono curioso. Cosa vuoi? Eh? Non vuoi in Sardegna. Devi andare in Sardegna, eh? Eh? È quello il tuo posto. No, non sono quello però là. So, so che a volte ci sono dei delfini anche in Sardegna. Sardegna, sì. Sardegna. 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 Hai visto? Ma stai riprendendo? Sto riprendendo, sì, guarda. No, 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 non ti avvicinare. No, perché non vorrei mai che si bloccasse tutto, eh? Ok, ok. Anche se magari si blocca lo stesso da solo, per il Yanoo. Potrebbe bloccarsi il video adesso, da solo. No, non vorrei mai. No, ma non è colpa tua. Se capita, non è colpa tua, no. Ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo programma. Come sempre. Come sempre, questa mattina, questa mattina in questo caso, ma come facevano a sapere che io il programma lo facevo oggi, non ieri? Sempre se lo facevo? Come facevano a saperlo? A programmarlo? Cioè, come facevano? Cioè, se io di solito lo faccio mercoledì, il programma. Come facevano a sapere che io lo facevo oggi in questo... un casino. Mi sono arrivate delle frasi questa mattina. Solite frasi, senza nessun senso logico. Sì, 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 sì. Frasi alle 8 e 42, se non sbaglio, di questa mattina, è vero, mi sono arrivate queste frasi. Ve le leggo, come sempre, per finire questo mio, mio programma di tutto e di più. Allora, oggi ho visto... che cosa lunga. Oggi ho visto un ragazzo che sembrava... che come me amava... no, scherzo. Quello era... c'era una volta. Dai, vado avanti, se non finisco più. Oggi ho visto un ragazzo che sembrava strafelice. Ad un certo punto incontra una per strada, uno, numero uno, e li urla. Tra tre minuti cadrai a terra. Ed... ed è successo davvero. Quindi i poteri esistono realmente. Bye Luca veritiero. Questo qui è autocomico, raga. Auto... ironico, autocomico. Cioè, i poteri esistono realmente. Bye Luca veritiero. Veritiero, veritiero. Ma che frasi sono, raga, raga. Scaliamo come sempre, scaliamo, scaliamo. E siamo arrivati ad un'altra frase di Pazzuro. Oggi mi sono chiesto questa giornata sarà buona o solo le lasagne di oggi lo saranno? Facciamo a metà. Metà buona giornata, metà buone lasagne. Scaliamo. Oddio. Ma se un giorno... se un giorno ha 24 ore. Perché la vita è una sola... boh 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 tutti boh. Gira il foglio. Ah, perché... ah, doppio. Gira il foglio. Guarda cosa c'è. Oh... qui ci sarà. Oh... giriamo, giriamo, giriamo. Oh... se la faccio. Oh... il bianco. Il bianco. Beh, sono le scritte dietro quelle. No, raga. Non ci credo, non ci credo. Saliamo. Ma se gli angeli... se gli angeli esistono... Pfff... perché non si vedono mai a fare la spesa? Ah, 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 ah. Cioè, la mente malata di questo qui, che scrive una cosa del genere. se gli angeli esistono perché non si vedono mai a fare la spesa a parte che sono in cielo scaliamo che è meglio mi sono reso conto siamo alla fine che più dormo e per più anni viverò qua sotto un altro ha scritto ha risposto in vedete scusate arancione arancione si legge si vede storto ha scritto non ne sono tanto sicuro bello mio vai anonimo col solito disegnino che neanche un bambino cos'è di 6 anni in prima elementare non fa diciamo eccolo lì il suo è lui quello è lui è lui ragazzi siamo arrivati alla fine come sempre di questo programma non so se lo farò anche la prossima settimana se cambierà qualcosa come sempre siamo stati circa un quarto d'ora forse un po' di più oggi non si è mai bloccato ho paura che si blocchi adesso spero di no e siamo arrivati alla fine io vi saluto e vi do appuntamento forse alla prossima settimana grazie di tutto ragazzi grazie ancora buona buon inizio di fine settimana che sta arrivando ciao ciao ciao